Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, sono un segnalatore, segnalo quello che è presente nel web e che può essere utile a chi apprende e a chi insegna. In questo video vorrei segnalare TED. TED è un'organizzazione no profit che ha uno scopo istituzionale, contribuire a diffondere idee in ogni ambito della vita sociale e della conoscenza attraverso uno strumento che è quello della discussione, della conferenza, il famoso TED Talk. TED è acronimo di Technology, Entertainment, Design, tecnologia, apprendimento, chiedo scusa, tecnologia, intrattenimento, ideazione, design, progettazione. La massima a cui è ispirata l'attività di TED è Ideas, Word Spreading, chiedo scusa per il mio inglese, ma idee che vale la pena di condividere, idee che è utile diffondere. TED è una comunità globale per lo scambio e la diffusione della conoscenza e delle idee in ogni campo, anche nel campo educativo. TED è quindi un archivio che contiene migliaia e migliaia di conferenze, di talks, sui più svariati argomenti tenuti da personaggi di ogni tipo, personaggi famosi, psicologi, sociologi, insegnanti, esperti, personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo della scienza, del mondo della didattica, del mondo della cinematografia, e così via. Per poter fruire al meglio di questi video, molti dei quali per fortuna hanno una trascrizione in italiano, dei sottotitoli in italiano, e quindi possono essere accessibili anche a chi come me non ha una grande conoscenza dell'inglese, è opportuno registrarsi. Io sono già registrato, qualora voi non lo foste, cliccate qui Sign Up e vi registrate. Io adesso accederò con la mia password e vi mostrerò come sfruttare gli strumenti che TED offre. Naturalmente abbiamo un account settings e qui possiamo modificare la nostra password, caricare la nostra immagine e così via. Watch, di questo menu in alto a destra, è la parte più interessante perché ci propone degli strumenti per navigare nell'enorme archivio di video che TED offre. Abbiamo i TED Talks, in cui possiamo cercare i vari Talks attraverso vari sistemi di ricerca. Abbiamo delle playlist su tematiche specifiche già organizzate da TED. Abbiamo delle TED series, cioè delle serie prodotte da TED, sugli argomenti più affascinanti, che sono oggetto di una particolare operazione di approfondimento. Abbiamo TED video, TED TED video, cioè delle lezioni. TED TED è, diciamo, quella comunità dedicata all'educazione presente all'interno di TED e offre lo strumento, lo strumento per creare, a partire dai video presenti su YouTube o presenti su TED, delle lezioni per gli studenti. Poi vi fornerò un link dove viene presentata questa funzionalità. Abbiamo i TEDx Talks, i TEDx Talks sono conferenze, discorsi, Talks sul modello TED, promossi da associazioni locali che si rifanno a TED, che sono associate a TED, ce ne sono anche in Italia. Bene, vediamo un po' come funziona TED. Se avete dei problemi, potete ricorrere, nel caso di Chrome, la funzione di traduzione, traduce in italiano, e vi traduce abbastanza bene i titoli, le voci di menu, eccetera, che ovviamente sono un inglese basico, e quindi anche la traduzione automatica è efficace in questo caso. E con questa abbiamo più di 2700 talk, tra cui possiamo cercare, possiamo cercare per parole chiave, digitando qui una qualsiasi parola, per esempio fisica, oppure possiamo cercare per argomenti, questi sono tutti gli argomenti tradotti in italiano, possiamo tornare alla versione originale, in ordine alfabetico, per esempio, a me può interessare l'animazione, oppure può interessare la realtà aumentata, oppure mi interessa l'educazione, la disabilità, ecco, educazione, abbiamo, come vedete, la parola attiva di ricerca e education, ecco, questi sono tutti dei TED dedicati all'educazione, posso anche tradurre in italiano per capire meglio di cosa parlano, e leggere i titoli, ecco, adesso ripristiniamo i titoli originali, e andiamo a cercare un video che può essere interessante, ecco, per esempio, la crisi dell'apprendimento, la crisi globale dell'apprendimento, cosa possiamo fare, clicchiamo, è un video che dura 15 minuti, possiamo vederlo a schermo intero, possiamo vederlo secondo differenti velocità, possiamo vedere se esiste la trascrizione in italiano, se siamo fortunati, ecco, esiste la trascrizione in italiano, e sono anche attivabili da qui i sottotitoli in italiano, quindi, io adesso toglierò il volume, procediamo, e vediamo che, man mano che il discorso va avanti, vedete, abbiamo la trascrizione in italiano di quanto viene detto, adesso ritorno alla visualizzazione più limitata, molto interessante la trascrizione, perché, vedete, io posso saltare da un punto all'altro del video, a seconda del mio interesse, per esempio, se non diremo mai alla Tunisia, clicco qui e vado proprio nella parte del video, vedete, dove si sta parlando di questo argomento, quindi è un indice cliccabile che agisce direttamente sul video, cos'altro posso fare? Posso visualizzare i commenti o inserire dei miei commenti, e quindi avviare una discussione su quanto viene affermato in questo video, questa può essere una utilità interessante dal punto di vista didattico, posso ancora esprimere la mia preferenza, il like, posso aggiungere alla lista dei miei video, questo è uno strumento molto interessante, per cui io esploro TedEd, trovo dei video che mi interessano e li salvo in una lista, in modo da poterli visualizzare in seguito, posso anche condividerli cliccando su share, vedete, abbiamo un link diretto, abbiamo ovviamente i tasti per i più importanti social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, email, abbiamo la possibilità di definire anche se vogliamo incorporare i sottotitoli, ecco noi mettiamo italiano, possiamo scaricare il video, vedete, oltre che condividerlo o inserirlo con un codice embed nel nostro blog, nel nostro sito e così via, o possiamo anche scaricare in formato MP3 l'audio, insomma abbiamo tante opzioni che possono accontentare tutte le esigenze, che si possono adattare a tutti gli usi e i contesti d'uso possibili, qui a destra ci vengono proposti video affini, che è Robinson, la scuola uccide la creatività, eccetera, che possiamo poi esplorare. Ma andiamo a vedere le playlist che TED ci presenta, anche qui, vedete, abbiamo delle playlist, anche qui possiamo cercare, in base alla durata, in base al curatore della playlist e così via, anche qui abbiamo la possibilità di accedere a quella che è un menu, o una, insomma, i tag ordinati alfabeticamente, per esempio, non so, rimaniamo, per esempio, a animali, ecco che abbiamo delle playlist che riguardano gli animali, che sono gli squali, vedete questa playlist, abbiamo una copertina e abbiamo dei video, dei TED Talks relativi agli squali, e se abbiamo fortuna, magari, sono pure tradotti in italiano, le traduzioni, vedete, c'è anche, probabilmente, la traduzione italiana, le traduzioni sono curate, su base volontaria, gratuita, sono in genere molto accurate. Andando sempre su Watch, possiamo vedere le TED Series, su argomenti specifici, che sono le neuroscienze, e così via, questo coming soon verrà presto, quindi ce ne sono tre per adesso. Continuiamo a guardare i TEDx Talks, vediamo, possiamo esplorare la libreria di TEDx Talks, sono migliaia, e ci vengono, ecco qui, si viene portati sulla pagina, sul canale YouTube TEDx, e qui possiamo cercare i nostri TEDx Talks, ce ne sono anche in italiano. Bene, adesso io vado velocemente, torniamo al nostro menu, e qui abbiamo Surprise Me e Sorprendimi, quindi Beautiful, quindi qui possiamo selezionare a caso video bellissimi, la durata di 10 minuti, ecco, mi vengono proposti questi due, The Dog Song, di Nelly McKay, eccetera. Bene, questo per quanto riguarda la ricerca, ci sono tante altre cose, altri strumenti per esplorare, e così via. Io vi mostro adesso due cose. Io ho list, le mie liste, cliccando qui, vedete, io ho la possibilità di gestire la mia navigazione su TED, e di organizzare il mio archivio personale di video di TED, questi sono cinque video che mi sono interessati, che hanno tutti la trascrizione in italiano, per fortuna, e che io ho salvato per poter riutilizzare. Ho anche salvato una playlist che riguarda dei TED Talks per l'educazione, infatti se noi torniamo sulle playlist, adesso le vado su una a caso, che cosa accadrà quando i robots ci prenderanno il lavoro, più o meno, ecco, questa playlist, vedete, io la posso salvare, è formata da vari video che trattano un argomento di scottante attualità, come si suol dire, la posso salvare, e adesso se torno nelle mie liste, e tra le mie playlist, troverò, vedete, anche la playlist appena salvata. Ho lasciato per ultimi i TED TED videos, cioè i video dedicati in modo specifico al mondo, appunto, dell'educazione. Anche qui abbiamo la possibilità di cercare, esplora, ecco qua, lezioni, e qui possiamo esplorare per argomento, vedete, non so, salute, letteratura, linguaggi, matematica, filosofia e religioni, io insegno filosofia, andiamo su filosofia, e qui ci sono, non so, la filosofia degli stoici, l'Egitto, la rivoluzione francese, ce ne sono vari, io posso anche utilizzarli, io qui, per esempio, abbiamo l'ascesa e la caduta dell'impero Assiro, vedete, posso, adesso qui ho tolto l'audio, posso far scorrere, qui abbiamo la massima definizione, e abbiamo anche i sottotitoli in italiano, spesso, adesso li ho tolti, possiamo agire sulla rotellina, vedete, e selezionare i nostri sottotitoli, in questo caso, per fortuna, c'erano anche i sottotitoli in italiano, vedete, una bella animazione, che tratta dell'impero Assiro, ma abbiamo tante altre cose, Gilgamesh, l'impero bizantino, eccetera, eccetera, vediamo le origini della Russia, vediamo se anche in questo caso, qui non abbiamo ancora, qui c'è la pubblicità, quindi lasciamo stare, quindi molto interessante anche i TED-Ed, e poi possiamo creare da questi video, o da altri video, che possiamo prelevare da YouTube, delle vere e proprie lezioni, vi rimando al link a un mio articolo, che spiega come usare questo strumento di TED-Ed, e cioè la creazione di lezioni. Per che cosa possiamo usare questo interessante archivio, interessante anche poi perché ci sono le trascrizioni sotto i titoli italiani, come insegnanti, educatori, formatori. Bene, prima di tutto è un enorme archivio di risorse video, si sa quanto sono importanti oggi i video nella didattica, ma è anche una cosa molto delicata, utilizzarli nel modo più efficace, più opportuno. Qui abbiamo tanti video di qualità, su tutti gli argomenti, quasi sempre argomenti di tipo inter-transdisciplinare. Possiamo utilizzarlo per la nostra formazione, per il nostro aggiornamento professionale, dato che una gran parte di questi video trattano di questioni scottanti legate all'educazione. Ci sono prima tanti video sulla famigerata e famosa questione dei test valutativi. Oppure possiamo utilizzarli come modello per promuovere attività educative, che vedano gli studenti come autori. Presimo sul modello degli Ignite Talk o dei TED Talk, vi lascerò anche il link a un mio articolo in proposito, a un mio post in proposito, possiamo con gli studenti definire una rubrica di valutazione, fissare dei criteri a un formato di talk, di discorso, che può essere più o meno orientato che sono a finalità argomentative, alla discussione di tematiche di attualità, eccetera. Per cui ciascuno studente avrà a sua disposizione 5 minuti, dovrà costruire una presentazione, avrà a disposizione per esempio 10 slide che accompagneranno il suo discorso. Il suo discorso verrà videoregistrato con un semplice smartphone e poi pubblicato, sempre che le varie leggi, leggine, le giucchie sulla privacy ci consentano di continuare a usare questi strumenti, perché ormai sta diventando veramente difficile a causa di questa ossessione un po' ottusa per la privacy. Usare questi strumenti con i ragazzi, bisogna ormai chiedere autorizzazione per qualsiasi cosa e alla fine uno si stufa anche un po', perché ci vuole più tempo a chiedere autorizzazione e a seguire i vari iter burocratici che a realizzare le attività. A questo punto non ne vale più la pena. Però ecco, dopo questo sfogo, può essere molto interessante abituare gli studenti a parlare secondo differenti modalità comunicative, la persuasione, l'argomentazione, l'espressione di un proprio punto di vista, eccetera. Tutto all'insegna del pensiero critico stando ben lontani dall'alternanza scuola-lavoro. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.